Il Dipartimento di Agraria è unico nella regione, unico ma sicuramente al centro delle attenzioni politiche dell'agricoltura calabrese. Noi formiamo studenti in tre ambiti di studio specifici, in scienze e tecnologie agrarie, in scienze forestali e ambientali, in scienze e tecnologie alimentari. Il nostro Dipartimento è aperto a qualsiasi visita e invito tutti i ragazzi a venirci a trovare prima di compiere qualsiasi scelta per potersi rendere conto di che cos'è l'agricoltura moderna. Aggiungi i Mediterranei ai tuoi studi. Il Dipartimento di IGES è diviso in tre aree, l'area di giurisprudenza che è un corso unico quinquennale, l'area di economia che è diviso in due corsi, il corso triennale di scienze economiche e il corso magistrale di economia. Ed infine il corso di scienze umane che è a sua volta diviso in tre aree, scienze della formazione primaria che è un corso a ciclo unico quinquennale, scienze dell'educazione che è un corso triennale al quale si aggiungerà un corso di biennale di specializzazione. Ed infine il corso di scienze motorie. Aggiungete i Mediterranei ai vostri studi.